si 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 hai molta libertà ecco quando vuoi pronti torniamo un attimo qua ci siamo naturalmente poi in fase di rientro faremo un bel giro di raffreddamento casomai anche extra nel senso che sono rientrato già un po di volte dove nonostante raffreddavano dalla scarica e si allora è bene che questa che peso ha è che siamo sui venti quintali quindi si fa sentire però diciamo che piuttosto dinamica come macchina e tu già in mdm così hai la risposta di un quarto ha tagliato in accelerazione dalla terza alla quarta la taglia è talmente tanta coppia è incredibile parliamo di 750 metri in coppia e ce n'è di sostanza si spettacolo come dite voi dalle vostre parti spettacolo così sei in sport no neanche sei proprio in comfort ancora mettila in sport ah perché bisogna confermare bravissimo confermi esatto e già l'assetto perché l'ho sentita abbastanza morbida anche io dicevo va strano però abbiamo dimenticato di confermare già così è un po' più efficace perché la senti più precisa c'è anche l'head up display sì 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 con l'end view prova m2 adesso con ferro 2,70 non è male per me male non male ah in questo motore che è strepitoso chiaramente il peso purtroppo è lì però teleisticamente hanno fatto un bel lavoro adesso guarda come apre ecco da questo momento ancora si concordo eccco a lì